750 miliardi di debito comune di cui 390 miliardi di sussidi a fondo perduto e 360 miliardi di prestiti e all'Italia vanno 209 miliardi. Sono i termini dell'accordo raggiunto in ottata dai capi di governo e i premier nel Consiglio europeo, terminato dopo quattro intense e faticose giornate che l'hanno fatto diventare così il vertice più lungo della storia dell'Unione. Avremo una grande responsabilità, ha commentato il premier Giuseppe Conte. Con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al paese. Ora dobbiamo correre. Nel 2019 i consumi di energie elettriche in Italia registrano una lieve diminuzione del meno 1% contro il più 0,5% del 2018, dovuta principalmente al calo dei consumi nel settore agricolo e industriale, parzialmente compensati da quello domestico. Lo evidenzia l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nel rapporto annuale. L'88% della domanda nazionale è stata soddisfatta dalla produzione interna in aumento di circa un punto percentuale, riducendo l'import almeno 7% e aumentando l'export a più 78%, ma sempre limitato in valori assoluti. Nel 2019 il 29% dei residenti negli stati membri dell'Unione europea non poteva permettersi di pagare una vacanza di una settimana. Questa percentuale è gradualmente diminuita dal 2010 quando era al 39%, ma a causa dell'emergenza coronavirus è probabile che questa tendenza al ribasso si fermi nel 2020. La Romania ha registrato la più alta percentuale di individui in questa situazione 54%, seguita dal 49% della Grecia, il 48% della Croazia, il 45% di Cipro e il 44% dell'Italia. Nel decreto rilancio c'è l'eco bonus per acquisto di auto e moto. Ci spiega tutto l'economista Gianni Lepre. Il decreto rilancio ha previsto l'eco bonus anche per auto e moto, 3.500 euro per l'acquisto di auto euro 6 con rottamazione di auto che hanno almeno 10 anni. Senza rottamazione il bonus si dimezza. Per le auto green il bonus può essere di 10.000 euro, per le auto elettriche 6.500 euro per le auto ibride. Il tutto vale fino al 31 dicembre del 2020 e per l'acquisto di auto per un importo fino al 40.000 euro al letto di IVA. Per le moto elettriche o ibride il bonus può essere di 4.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione.